Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Avete visto che il Dottor Dino mi ha pubblicato un video appena l'ho accorto e ho trovato quella videocamera, poi mi sono messo a dormire e la mattina non l'ho trovato prima il mio comodino. Io ho una brutta voce, non ho visto questo aspetto. Poi, benvenuti, questo è il mio secondo canale. Ora, volevo che rossi, e cocco. Comunque, e oddio, e oddio, e oddio. Iniziamo dal gatto. si basta di sale adesso facciamo il gattino gattino ragazzi prima di questo forno diciamo da parte allora come si chiama stasera forse ci incontriamo come si chiama ci troveremo allo chalet con le serie sarò in piedi e canterò la mia canzone la dovrò pubblicare oggi no il dottor Gino sta pubblicando più ci ha pubblicato il secondo minuto ok ok gattino oppure domenica sera ci vediamo al just the ticket è questo si guardate io ho questo telefonino tra poco è pure scarico una frittella una frittella una frittella bella a forma di gatto mettiamo dentro la scatola passiamo al verde che bello che bello è una tartaruga le tartarughe sono belle ultima asciutta io sono un bambino felice con sto oggi è lunedì mamma mia il dottor Gino cioè il dottor Gino da tutte le parti ha pubblicato quello di vedere la mia canzone era un po' bruttarello vero perciò lo cambierò oh mamma mia mi caduta la pizza ecco la pizza signora pizza può fare più un pasto avrei un'idea se me la posso fare ok c'è meno mi si è strappata un po' ok gli ultimi 4 facciamo che il continuo di altri due il continuo di questi 4 li facciamo un'altra volta ma quando facciamo solo il blu e questo e poi un altro giorno faremo questo e mi scherzo giallo ragazzi ho un'idea mi scherzo un po' di paste non faccio un'idea un'idea oh mamma mia sono bene insieme ok questo lo facciamo ok ci mettiamo anche un po' di ora opzione poi 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 oh mamma mia scopo il telefono ma vogliamo mettere un po' di bianco un po' un po' di rosso ok finito vediamo che ci viene ok vediamo che ci viene un po' un po' un po' un po' mettere un po' un po' se è verde se è giallo se è bianco non so mai se è rosso lo metto nel rosso vicino Sì. Ok, il verde è pronto, lo metto con il verde. Ok, ok. Ok, il verde è pronto. Ok, il rosso è un giallo, verde e azzurro. Ok, il rosso è un giallo, verde. Ok, il rosso è un giallo, verde e azzurro. Ok, il rosso è un giallo, verde e azzurro. Ok, vediamo il prossimo... Azzurro. Prossimo video, ciao! 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 Ciao!